Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, io sono sempre Alessandro e come vi avevo promesso, ecco il video del castello roccheggiante, quindi il video musicale di questo gioco Allora ancora non l'ho fatto, quindi andiamo a vedere Castello Rock, Rock in the City, in the House Centoria dovrebbe partire la musica, infatti cercherò di... ecco vedete che loro rimbalzano e partono C'è ogni mio movimento e c'è la musica, spero che la sentiate, io cerco di stare zitto il più possibile No! Vedete? E poi si fa... no, è troppo figo Aspetta, che mi ripiglio un attimo che mi fa morire da ridere Allora, via! Allora, via! No, dai ragazzi E' una figata assurda Sì, va bene Questa non me la ricordavo Ah, l'avevo già provata in una demo Nella demo del gioco Ah, cambia anche la musica Ah, cazzo, non ho saltato uno... ah già... porca miseria... Oh ragazzi, livello figliissimo, veramente Anche se... Sto video durerà pochissimo Ragazzi, sai cosa facciamo? Quasi, quasi, quasi... lo rifacciamo... Lo rifacciamo... ah, ballate tutti ragazzi, ballate... Sì! Eh, vai! No, comunque dai, cosa facciamo? Lo rifacciamo? No, perché volevo vedere dove cacchio era l'altro teen È guadagnato un trofeo roccaforte del rock Che cazzo è successo? Fantastico che hai salvato questo mondo degli incubi Ti meriti proprio 5 gratta fortuna E voi direte Che minchia sono i gratta fortuna E ora ve li faccio vedere Allora, dove cacchio è? Qua Gratta fortune E voi Gratta finta sta roba Ho vinto niente un teen Ma quanti ce n'è di gratta fortuna? Facciamo un altro più e basta Se no vi annoio a pala Dai 500 all'um Facciamo un altro che mi gasa troppo grattare il touchpad Ho vinto una creaturina Allora, come cazzo ero? Eh, ho vinto una creaturina Andiamola a vedere Galleria delle creaturine Ancora non ho capito a sta cosa So solo che mi danno dei punti Ho già sbloccato due robottini Che sono questi due qui Una reginetta formaggio Che non ho capito che cazzo è E poi questo bellissimo parruccone Viola i fantasmi I fantasmi I toast È un toast I fantasmi I toast E i robot Che figata Ci saranno altre creaturine Veramente interessanti Allora ragazzi Se volete Rifacciamo il livello Anzi Decido io Quindi non rompete La Mingyu Allora Andiamo dentro Tanto dura Quanto cacchio dura Un minuto e mezzo Durerà Andiamo Fauta Ragazzi Ma dove cacchio era Ah qua Allora Cerchiamo di liberare Tutti e tra i teen Perché se no Anche se non ce la farò mai Oh ragazzi Però se non ce la faccio Basta Non lo faccio più Non è che lo posso Ci provo dai Ormai dovremmo saperlo a memoria E quindi non dovremmo sbagliare Effettive situazioni Ah ma gli altri me li tiene comunque Quindi in teoria dovrei occuparmi solo Di quello che ho saltato Che però porca miseria Non mi ricordo dov'è No E sai dov'è l'altro? Io non me lo ricordo Voi sicuramente sarebbero Segnare Era lì Io non mi ricordo Proprio una ceppa Uh questo è il pezzo più bello Può essere che era qua in zona Ma dov'è? Può 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 Pia ti prende troppo sta musica Ma Cazzo li ho saltati tutti Dov'è il team? Eccolo Sì Champions of the world in the city of your American people E vai a paletta ragazzi Finchia stavolta te l'ho picchiato lì dove non posso dire Tutti e tre Come potete vedere lì in alto li ho salvati tutti e tre E quindi qua voglio una bella festa 75 150 300 Festeggiamo Adesso basta ragazzi Basta fare i coglioni perché Ho fatto fin troppo il pirla Spero vi sia piaciuto il video Se vi è piaciuto mettete mi piace Iscrivetevi al canale Andate al mare Non andate in bagno adesso Perché vuol dire che vi ha fatto cacare Quindi ragazzi fate quello che volete Mettete mi piace, mettete non mi piace Mettete un commento che ho scritto non li voglio vedere più Perché ci hai rotto le ball Fai qualche altro gioco Vorremmo vedere questi giochi Cioè commentate dai ragazzi Facciamo vedere un po' che ci siamo Ok? Ciao e al prossimo video